benvenuti a questo nuovo tutorial su illustrator sono andrea del gatto e questo è il video che conclude il ciclo dell'orologio quindi stiamo componendo questo orologio abbiamo visto nella parte precedente come arrivare fino a questo punto ci manca appunto di concludere inserendo i numeri del quadrante e di creare poi la composizione definitiva ok quindi siamo arrivati a questo punto dobbiamo creare questi spacchi in mezzo dai quali poi si vedranno gli ingranaggi che stanno sotto che è poi la parte più interessante perché comunque se no sarebbe un orologio qualsiasi ok io qui chiaramente ce l'ho già fatto però lo facciamo crea innanzitutto un cerchio di questa grandezza io chiaramente prendo sempre come riferimento questo perché l'ho già fatto però insomma il cerchio può essere una grandezza qualsiasi ecco faccio attenzione che tutto sia allineato quindi lo linea al centro in verticale e in orizzontale in questo modo sono sicuro che tutto è perfettamente allineato dopodiché mi creo questi rettangoli queste spaccature sono semplicemente poi dei rettangoli alla fine innanzitutto li creo per dritto quindi in in verticale e in orizzontale poi ruoto dei 45 gradi togliamo la traccia ok questo ci assicuriamo che sia allineato al centro anche ok come al solito alt freccia destra e poi freccia sinistra rimetto a posto e lo ruoto ok in questo modo sto creando la forma dello spacco la vediamo che è un po più grande proprio a questo caso allora lo rimpiccioliamo non ci sono problemi andiamo sul lato per farli uguali chiaramente andiamo sul lato e lo rimpiccioliamo vedete che si rimpiccioisce partendo dal centro quindi andiamo a farlo da 45 e anche questo questo caso non è più il lato ma è l'altezza lo facciamo da 45 questo modo sono tutte e due uguali poi seleziono questi questi tre elementi quindi il cerchio e le due le due barre bianche vado su elaborazione tracciati e gli dico scomponi clicco due volte per entrare in questo gruppo e tolgo tutti gli elementi che non mi servono più fatto questo mi tengo queste forme perché poi mi serviranno per creare questo che è un po' un effetto vetro ok sopra agli ingranaggi seleziono l'elemento sotto e dico espandi perché ha questo questo tracciato che poi se lo ritroveremo anche dentro quindi poi lo separo con ctrl shift g quindi seleziono solo il bianco seleziono anche la parte al centro e dico sotto meno sopra ok vedete che ho ottenuto esattamente la forma che voleva adesso la porto sotto perché sarà automaticamente andata a mettere sopra e abbiamo ottenuto lo stesso risultato adesso prendiamo quindi le lancette lancette le abbiamo già viste quindi adesso non ve le faccio rivedere e le andiamo a posizionare al centro l'orario che vogliamo che vogliamo dare all'orologio insomma è quello che preferite voi in questo caso tipo menzanotte meno tredici fatto questo andiamo a creare i numeri del quadrante andiamo a scrivere andiamo a scrivere con lo strumento testo i numeri ok lo ingrandiamo un po' per questo tipo di orologi è necessario avere un font con grazie di tipo romanico ok quindi questo è uno charlemagne questo l'ho utilizzato anche per altre cose ma va bene anche un traian il traian se non lo conoscete il classico fonte che viene utilizzato per tantissime logandini film tipo il gradatore memoria di una geisha e via dicendo insomma il fonte romano per eccellenza quindi andiamo a scrivere il numero romano facciamo bianco e lo andiamo inserire chiaramente questo è semplice perché quello che sta qui adesso andiamo a mettere anche quello che sta sotto lo rotiamo questo sarà un 6 importante che siano allineate al centro anche questo caso selezioniamo tutto tranne le lancette le allineiamo al centro per essere sicuri le lancette perché comunque non sono simmetriche come tutto il resto quindi non le possiamo selezionare ci assicuriamo che i numeri stiano abbastanza centrati allora adesso li selezioniamo entrambi non possiamo fare quel discorso di alt freccia sinistra freccia destra perché con il testo non si può fare perché col testo alt con le frecce è un comando per aumentare la grinnatura quindi questo è un altro discorso mi faccio contro il c poi contro shift v e otteniamo incolle in posizione dopo di che ruotiamo di 45 gradi quindi tenendo premuto shift ok in questo modo abbiamo ottenuto il 3 e 9 ok poi adesso c'è una difficoltà perché qui non possiamo più ruotare di 45 gradi ma perché abbiamo altri due numeri da ottenere quindi e qui la rotazione diventa un po' complessa quindi innanzitutto ce li copiamo e poi li incolliamo in posizione e poi lo diamo per aiutarmi visto che qui c'è una possibilità che io mi sbagli che nella rotazione lo raggruppo questo perché nel momento in cui devo andare a modificare poi l'allineamento codato a tutti questi numeri che hanno appunto la stessa rotazione potrò farlo per tutti insieme faccio poi la stessa cosa dall'altro lato quindi copio incolli in posizione il gruppo e vuoto anzitutto proviamo a mettere i numeri quindi metto lo strumento testo inserisco velocemente i numeri certo il font è un po largo quindi non so magari si posso pensare vediamo un po selezionandoli tutti di rimpicciolirlo un po perché vedete questi magari più lunghi si vedo che stanno un po troppo vicini comunque vedo che qua c'è per esempio una distanza che non va bene quindi qui ruoto ruoto anche questo ok abbiamo ottenuto quindi tutto il quadrante ci prendiamo questo ci assicuriamo che le lancette quindi e il perno centrale stiano sopra nei livelli quindi faccio ordine e porta in primo piano poi questo lo faccio griggino gli do un'opacità bassa quindi tipo del 15 per cento e lo vado a posizionare dove deve stare quindi andrà sotto poi le lancette quindi non mi crea problemi dopodiché è rimasto solamente da da mettere tutto sopra l'ingranaggio oppure da mettere ingranagli sotto a tutto quindi faccio ordine porta sotto e vado a mettere gli ingranaggi come mi sembra che stiano meglio quindi adesso l'ho messi a caso diciamo in questa maniera comunque sì sembra che l'effetto sia buono andiamo a concludere poi inserendo lo sfondo allora questa forse è una cosa che non ho mai fatto vedere nelle mie tutorial di illustrator quindi ve la faccio vedere allora io prendo un pattern il pattern usato per il mio sito e per il mio sfondo youtube è questo qui cosa faccio metto l'immagine internamente poi dico di incorporarla perché non può un pattern non può mai essere un collegamento l'ho incorporata adesso vado su la finestra opzioni pattern selezionando questo gli dico crea pattern ora vedete che l'ho aggiunto qui nella paletta dei colori gli dico chiudi questo adesso lo cancello poi mi crea un rettangolo e semplicemente come se dovessi dargli un colore gli do il pattern praticamente questo si ripete automaticamente dentro al rettangolo e questo modo non devo andare a mettere tutti i rettangoli affiancati una cosa insomma che ci fa perdere molto tempo poi prendo il mio orologio faccio un gruppo e lo vado a posizionare chiaramente adesso devo spostare lo sfondo sotto poi gli do un'opacità come era prima del 10% ed ecco qua che abbiamo ottenuto esattamente lo stesso effetto dello sfondo del mio sito e della 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 mia pagina youtube ok per questo tutorial è tutto quindi anche per il ciclo dell'orologio come l'ho denominato e spero vi sia piaciuto se insomma se vi è piaciuto mettete mi piace sul video iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo tutorial